Ehi tu! Sì, proprio tu! Se state guardando questo video, probabilmente è perché non ci siamo più. Ma che avete capito? Abbiamo solo terminato il servizio. Non siete riusciti a liberarvi di noi? Fino ad ora ci è piaciuto sentirci dire cosa siamo stati per voi. Ma adesso tocca a noi raccontarvi. Cos'è stato il servizio civile per noi? E cosa siete stati voi per noi? Sedetevi comodi. Ci sentirete parlare come non mai. Siamo entrati nel progetto Grugliesco Giovani con non poche difficoltà e molti timori. Ma fin dal primo momento non ci è mai mancato il giusto sostegno. Lavorare con voi è stato per noi un'esperienza utile e arricchente. Una montagna russa è un'epifania. Ogni dritta, ogni giornata stancante o snervante, ma anche ogni sorriso e risata ci hanno aiutato a crescere. E oggi più che mai abbiamo capito l'importanza di avere accanto un'ottima equip che ti sostiene e incoraggia sempre. Grazie. 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 Grazie.